La parte politica si interroga su quel voto che è di quel partito che ha deciso alla fine, forse è stato imposto di non partecipare, che è Italia Viva. È un partito che ha degli elettori, le chiedo qual è il messaggio che si sente di mandare a quella parte politica che si è vista tagliata fuori e se può essere, può esserlo. Questo lo vedremo il 28 sera, ago della bilancia di una partita che si gioca tra i due candidati presidenti principali. L'ho fatto appena mi sono candidato e quando è successa questa storia, cioè quando li hanno praticamente messi alla porta, l'ho fatto ancora di più, ovvero sia il messaggio è questo, noi siamo aperti a tutti, noi abbiamo un sogno, una visione e un piano operativo per la Liguria del futuro, per la Liguria delle prossime generazioni. Chi ci vuole stare è benvenuto e chi ci vuole stare vuole supportare, non sopportare, supportare questo piano, è benvenuto e vogliamo lavorare tutti assieme. È successo con molti di Italia Viva, alcuni si sono ovviamente anche candidati, è successo anche con quelli di azione, abbiamo candidati di azione che sono con noi. Tutti quelli che si sentono esclusi da questo mondo che non è più di centro-sinistra, media-sinistra ed estrema-sinistra, i 5 Stelle, quelli che vogliono il declino, quelli che vogliono la decrescita felice, quelli che non vogliono le infrastrutture. Ebbene, non posso pensare che i moderati o anche il centro-sinistra, da un certo punto di vista, stia assieme a quelli che non vogliono fare le cose, che non vogliono le infrastrutture e che vogliono la decrescita felice. Ecco, per loro c'è un grande benvenuti e una grande porta aperta, pronti a lavorare tutti assieme.